Ecco quello che devi sapere sui Chromebook. I Chromebook sono computer portatili semplici e potenti, in grado di gestire quello che per te è importante e pensati per essere facili da usare. I Chromebook usano Chrome OS, un sistema operativo creato da Google per essere semplice, veloce e sicuro. Quindi, che cosa rendi i Chromebook differenti? Tutto è facile! Per passare dal tuo vecchio portatile, basta accedere al nuovo Chromebook con Gmail e tutti i tuoi file e le tue impostazioni saranno proprio lì. La protezione dai virus è integrata, così questo non ti succederà mai più. Ti fanno risparmiare un sacco di tempo. Per avviare un Chromebook basta qualche secondo. Dopo averlo fatto, premi il tasto Tutto Fare che con un tocco ti permette di trovare quello che cerchi, come file, le tue app e risposte online. E a differenza della maggior parte dei portatili, il software del Chromebook si aggiorna in background automaticamente. Ma allora, cosa puoi fare su un Chromebook? Ha tutte le app che ti servono, che ti piacciono e che in fondo avresti sempre voluto. Wow! Per lavoro, per la scuola, per rilassarti. Puoi modificare le foto! Carina! Giocare o restare in contatto. E questo è quello che devi sapere sui Chromebook. Semplice e potente è il nuovo concetto di laptop. A presto! 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 A presto!